È la storia di uno scrittore in cerca di ispirazione e dell'incontro improvviso con un misterioso vagabondo. Antonio Banderas è a Roma sul set del suo nuovo film Black Butterfly. Posso parlare un po' di italiano ma non troppo. Ho fatto film anni fa in Italia, però sono molto timido. È una lingua incredibilmente sexy per me, tiene un componente speciale, musicale. Coproduzione internazionale, film ambientato in Colorado ma girato tra Lazio e Abruzzo. Della trama Banderas non può rivelare molto. Sono stato convinto a fare questo film perché è un gioco di specchi, un thriller, perdi di vista la realtà. Attore versatile, ci racconta di essere al suo 97esimo film. Ho recitato in musical, storie d'azione, film per bambini. Mi piace cambiare genere ed è esattamente ciò che farò. Dopo questo thriller, una commedia. Co-protagonista è l'attore irlandese Jonathan Ries Myers. Senza svelare troppo della storia, posso dire che il mio personaggio non è quello che sembra. Sto recitando due cose insieme, la verità e la bugia. Adesso lavoro.